Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi quarta parte del tutorial sul montaggio della Satsuma. Ci resta solo da fare una cosa, fare il pieno di benzina. Ovviamente io non ne avevo, ne avevo pochissima, quindi ce n'è giù proprio poca. Adesso l'altra cosa che io vi consiglio di fare è quello di, quando comprate le batterie, di metterle subito in carica, perché se no col tempo se restano lì perde potenza, perde efficienza. Iniziamo installando la batteria ma a questo punto non tocchiamo la batteria. Non ha senso toccarla perché dovete evitare di rimanere fulminati. C'è solo una piccola grande regola che è quella di non collegare mai per primo il polo negativo. Cioè bisogna impedire in ogni caso che alla macchina resti connesso solo il polo negativo. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Ora per andare avanti bisogna fare tutto il collegamento dell'elettrico. Per farlo io ho seguito una piccola tabella che potete trovare tranquillamente ovunque in internet, anche sulla guida, sulla wiki ufficiale piuttosto che altri siti. Ed è più comoda rispetto a un video. Quindi io cercherò di farvela il più semplice possibile, anche se in realtà io ho sempre avuto problemi guardando video per quanto riguarda il cosiddetto wiring, che è il cablaggio. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è prendere in mano il wiring mess, questo graviglio di cavi, e premendo il tasto F possiamo andare a connettere le varie cose. Dobbiamo connettere lo spuntino, lo spuntone, lo spuntino, che vedete sporgere da lì, va connesso ai due fari posteriori e al serbatoio di carburante. Quindi lo facciamo subito, vedete che abbiamo qua, ci dice rear harness connector, primo F, poi vado sul serbatoio come prima cosa, ecco fuel, me lo dava un attimo fa. Eccolo qua, connesso. Dopodiché torniamo nuovamente su di lui, rear harness e connettiamo un faro. Ok. Poi nuovamente su rear harness, senza finire di sotto, e lo colleghiamo anche al secondo faro. Quindi abbiamo connesso questo, ora possiamo passare davanti al headlight connector. L'headlight connector si connette semplicemente a tutto l'apparato luci davanti. Quindi in realtà poi qua si chiama in un altro modo perché si chiama frontlight connector e va connesso lì, frontlight connectors va connesso qui. Poi tecnicamente andrebbe connesso anche alle due farecce sotto che sono acquistabili sul catalogo, ma non le abbiamo ancora, quindi al momento non possiamo collegarle da nessun'altra parte. Quindi queste luci centrali vanno al momento soltanto sui due fari davanti più il main harness connector che è qua. Ok. Fatto quello, passiamo a connettere direttamente il main harness connector. Il main harness connector lo colleghiamo come prima cosa al regulator. Ah vabbè, facciamola all'ignition coil che andava fatto già, che andrà fatto dopo, l'ignition coil. Poi al regulator e poi al positive terminal. Perfetto. Quindi, ricapitolando, regulator, positive terminal, innition coil e poi per ultimo al radiator fan connector. Quindi tac e poi andiamo a cercare il controller diciamo della ventola del radiatore. Ok, radiatore fan connector. Fatto questo, dobbiamo andare a connettere il fuse box che è all'interno dell'abitacolo con il pannello strumenti e l'ignition switch. Quindi, tac, scordate. Sì, non c'è in realtà il rischio di sbagliare a connettere da quello che ho capito, quindi, allora, il fuse box. Nooo, non dovete cliccare, non dovete cliccare, ok, ma dovete premere F. Fuse box. Se riesco a inquadrarlo. Uno con l'instrument panel. Il fuse box con l'ignition switch. E poi basta, credo. Non dovrebbe esserci altro perché il fuse box è connesso con quelle due cose lì. L'ignition switch, perfetto. C'è la radio harness ma me ne frego perché non mi serve. Abbiamo qua davanti invece il dashed harness connector che va al light switch che non trovo. E poi ai gouges, agli extra gouges, quindi andrebbe connesso a varie cose, tra cui anche... Sì, tanto qua possiamo tranquillo. Light switch, eccolo lì. Light switch. E... Basta, credo. Extra gouges. Sì, vabbè, poi altre cose... I... Ok, dovrebbe andare con qualcosa qua dentro, tipo questo. Il... No, in realtà no, perché... No, perché non ho il contagiri. Quindi niente, niente da fare. Niente, quello che dobbiamo fare ora è andare a connettere il polo positivo con lo starter, quindi il polo positivo della batteria, con... Ho staccato per sbaglio la batteria... La ripiazziamo. Capita. Un po' lo positivo della batteria. Con lo starter. Lo starter. Eccolo lì. Poi dobbiamo andare a stringere la vite. Quindi lo facciamo... Subito adesso. Prima il negative terminal. Con... Sempre con questa parte qua. C'è la battery ground connector. Perfetto. Quindi due viti da stringere. Uno e due. Abbiamo il regulator all'alternator. Come ultima cosa importante da fare. Quindi ricerchiamo il regulator, che dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccolo qua. Eccolo qua. Regoletto all'alternator. Eccolo lì. Connesso. Pure lui. Regoletto all'alternator. Mancherebbero tutti gli impianti audio, ma quello me ne frego. Onestamente. Ora abbiamo da fare alcune modifiche. Dobbiamo fare un paio di strette di viti. Quindi andiamo a prendere la chiave. numero 7. E andiamo a stringere il motorino d'avviamento. Abbiamo due viti da stringere. Anche questa. Una. Credo basta. Almeno mi pare... No. Mancherebbe anche quella. Ok. No. La vite era quella del 5 mm. Quindi abbiamo stretto le due viti che mancavano. Abbiamo stretto all'alternator... allo starter i due positivi e negativi della batteria. A questo punto prendiamo la vite 8. La lunghezza, la dimensione 8. E fissiamo il polo positivo, ma il negativo. Non devi evitare che inizi a sfrigolare. Quindi positivo, connesso. Negativo, connesso. Quindi a questo punto, tecnicamente, se tutto è stato fatto correttamente, la macchina dovrebbe partire. Quindi adesso, a breve, ci rivediamo e andiamo a fare la prova. Saliamo in macchina. Si sale al posto di guida. Si inserisce. Si accende la luce. E adesso proviamo ad accenderla. Anche se in realtà il carburante manca. Quindi vediamo se riusciamo almeno ad accenderela. Sì, ragazzi, grande lavoro. Grandissimo lavoro, ragazzi. Siamo riusciti ad accenderla, anche se praticamente adesso è senza benzina. Però l'auto sta girando. Sì, è senza benzina. Decisamente senza benzina. E sta, tra l'altro, facendo anche un brutto... Un brutto gas di scarico. Quindi io adesso nel dubbio la spengo. Però abbiamo almeno la base per ripartire. Abbiamo montato la macchina insieme. Ora dovremmo aver connesso tutto. Monterò i fari. Insomma, sistemerò tutto. Però direi che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo montato, facendo anche degli errori dovuti comunque a un tutorial su cui mi ero basato. Però poco male, nel senso che io ho preso spunto, l'ho provato in tempo reale con voi, non me lo sono preparato prima. Ci ho impiegato parecchio tempo. Sia come montaggio, che come tagli vari, che come registrazione. Ma sono stato contento di fare finalmente un qualcosa di aggiornato in italiano. Ovviamente, mi potresti dire, però non hai fatto tutto, ci sono tante cose ancora da fare, che ho fanno da mettere due viti. E l'impianto a radio che manca va bene. Però quello, se siete arrivati fino a questo punto, cliccare due cose a caso, perché alla fine non si può sbagliare nel wiring. Per mettervi la radio, gli amplificatori, la musica, ve lo potete anche fare, insomma. Il più l'abbiamo fatto. Quindi, a questo punto, direi che così siamo a posto. Finisce qui il tutorial italiano di Maisa Mercara. E ce ne vediamo al prossimo, su altri video, insomma. Alla prossima e ciao ciao!